Perché? Ma perché? Ma perché? Perché? Alcuni di voi mi hanno chiesto perché faccio i video. Nel 2016, l'era del social media marketing, condividere contenuti è fondamentale. Cosa avreste preferito? Andare a leggere dei post in un sito lunghi un'eternità? Ne avreste tempo? Preferireste che postassi delle foto di gattini? Oppure dei selfie? Credo che la cosa più utile e più immediata sia quella di realizzare dei video. L'idea è quella di creare comunque un prodotto di qualità e che offra un servizio all'utente finale, che siete voi. Visto che comunque quando vengo a contatto con delle persone, il mio ruolo fondamentale è risolvere dei problemi, risolvere delle domande, voglio cercare di farlo qui, in questo modo. Dite la verità poi, non aspettate altro voi alle 10 di mattina che vedere la mia faccia, no? E poi alla fine è anche divertente. Sì, ho capito, ma perché? Perché no? Grazie. Grazie.